Su Piazzetta Rodinò a Napoli tornano i sigilli. Scatta il sequestro per i gazebo di sei tra bar, pub, ristoranti della zona. Lo slargo, pedodalizzato da qualche anno, è stato trasformato nel tempo in una specie di campeggio. Tavolini, sedi, ombrelloni e gazebo avevano invasi quasi tutto lo spazio disponibile, tutto in maniera illecita. 20 giorni fa il Comune ha inviato una diffida ai titolari dei 5 esercizi che occupano la piazza dando 3 settimane di tempo per esibire permessi e autorizzazioni. Entro ieri tutti avrebbero dovuto mostrare di avere le carte in regola, nessuno lo ha fatto e gli agenti della Polizia Municipale della sezione Chiaia hanno apposto i sigilli ai 5 invadenti gazebo. Le contestazioni fanno riferimento non solo a un mancato placet della soprintendenza ma anche all'assenza di pratiche edilizie. Insomma, i gazebo sono cubature stabili e non rimovibili come sostengono invece i gestori dei locali. I tavolini, le sedie e i tendoni che le circondano non possono essere considerate, secondo le contestazioni, strutture amovibili e dunque occorre un permesso specifico che per ora non c'è. I locali coinvolti sono il Bar Cimino, due spazi diversi che fanno riferimento a cantine sociali, il Chiaia Lobster e Managua. Panini, caffè, vini, aperitivi, c'è un mondo che ruota intorno alla piazza che nelle intenzioni degli architetti del comune che hanno ridisegnato il quartiere pochi anni fa doveva essere un gioiellino pedonale. E invece Rodinò è diventato una sorta di campo base al servizio di locali invadenti che hanno montato teloni di plastica antiestetici su strutture all'aria permanente. Permessi o no, il colpo d'occhio è davvero scoraggiante.